Un posto che dovrebbe essere occupato esclusivamente dai disabili viene occupato da chi invece dovrebbe garantire questo. Succede a Favara. A segnalare la problematica è Lillo Cinque Mani, disabile della Vista e presidente provinciale dell'Unione Cechi d'Europa di Agrigento. Ieri mattina si è fatto accompagnare dalla moglie al comune di Favara per sbrigare alcune pratiche. Arrivati in via Roma però il posto riservato agli invalidi era occupato da un'automobile non autorizzata. Ma c'è di più. La macchina non era quella di qualsiasi cittadino indisciplinato ma nelle sue fiancate riportava l'insegna comune di Favara, quindi un mezzo di proprietà dell'ente. I coniugi Cinque Mani allora hanno deciso di attendere l'arrivo del dipendente responsabile. Dopo diversi minuti però decidono di recarsi al vicino comando di polizia municipale per segnalare la situazione. Prima però la moglie del signor Lillo lascia la sua macchina proprio dietro l'auto del comune per evitare che questa, durante la loro assenza, venisse spostata. La signora comunque con il proprio cedulare filma e fotografa la scena. Arrivati dai vigili la coppia ha illustrato il problema agli agenti. Secondo quanto riferitoci dallo stesso Cinque Mani, i vigili non sarebbero intervenuti subito ma avrebbero temporeggiato. Quando però l'agente di polizia municipale si reca in via Roma per sanzionare l'auto incriminata, ecco la sorpresa. La Fiat Panda Bianca del comune di Favara, parcheggiata in un posto riservato ai disabili, non c'è più. Nonostante lo sbarramento provocato dalla macchina dei Cinque Mani, l'auto del comune era stata spostata, impedendo all'agente di rilevare l'infrazione, nonostante il video e le foto realizzate dalla signora. Quando siamo arrivati lì all'interno del comando abbiamo trovato una vigilessa che ci ha accolti, quando abbiamo esposto il nostro problema la vigilessa anziché recarsi verso l'autovettura dell'amministrazione per prendere dovuti provvedimenti, cioè sanzionare l'accaduto, se ne è andata all'interno del locale per parlare con altri colleghi. Hanno perso talmente tanto tempo i vigili, prima che andassero a vedere l'accaduto sul posto, che hanno dato il tempo al responsabile di questo incivile gesto di andare via con la macchina. Non so come ha fatto, ma è andato via. E quindi di conseguenza non hanno potuto sanzionare questo incivile gesto del loro collega dipendente dall'amministrazione comunale. Cinque Mani, oltre a segnalare il problema alla nostra redazione, ha anche scritto al noto programma Mediaset Le Iene, raccontato la vicenda su Facebook. E proprio sul social network ieri sera sono arrivate le scuse del primo cittadino di Favara, scuse che il presidente provinciale dell'Unione Cecchi d'Europa dice di accettare, a condizione che i responsabili di tale gesto vengano puniti. Ieri sera ha pubblicato su un post di Facebook le sue scuse nei miei confronti e che prenderà i dovuti provvedimenti nei confronti dei responsabili di questi gesti. Dico al signor sindaco che accetto le sue scuse, ma a condizione che devo vedere puniti i responsabili di questi gesti e una volta per tutte finisce questo problema dei parcheggi selvaggi riservati ai disabili. Per quanto riguarda la continua del post del sindaco che lui dice che giorni fa aveva dato ordine al comando dei vigili per intensificare i controlli riservati per quanto riguarda i parcheggi riservati ai disabili, ebbene non capisco come si verifica un fatto così increscioso proprio davanti al comando dei vigili urbani, che basta che si affacciano dalla finestra e vedono che il posto riservato ai disabili è occupato da una macchina di un loro collega dipendente dall'amministrazione comunale. Che disabili non siamo noi, i disabili sono tutti coloro che hanno avuto la fortuna di avere tutto della vita a livello fisico e fanno notare a tutti che vedono e fanno finta di non vedere, sentono e fanno finta di non sentire, capiscono e fanno finta di non capire. Perciò i veri disabili non siamo noi che abbiamo avuto la sportura di avere un deficit fisico, i veri disabili sono loro, chi dovrebbe far rispettare le leggi che sono i primi a non rispettarle. Sulla questione abbiamo sentito anche Gaetano Raia, comandante della Polizia Municipale di Favara. Ho assistito in prima persona quando è successo ieri mattina, ci ha detto al telefono il comandante, il signor Cinquemani è venuto al comando per segnalare la presenza di un'auto nel posto riservato ai disabili. Il tempo necessario per inviare i controlli saranno passati non più di due minuti tra l'intervento segnalazione del signor Cinquemani e l'uscita dal comando del vigile che era impegnato in altri compiti e, aggiunto Raia, sul posto l'auto non c'era più. Per cui non è stato possibile fare la sanzione. Io stesso, precisa il comandante dei vigili urbani, avevo dato disposizione al vigile di uscire e andare a sanzionare la macchina, ma, naturalmente, se non l'accertiamo con la nostra presenza, non possiamo sanzionare nessuno, né tanto meno con la foto portata dal cittadino. Ci dispiace, ha detto ancora Raia, non aver potuto sanzionare l'ingivile di turno. Non è il solo, purtroppo, a Favara. Come ricorderete, recentemente, su segnalazione di un giovane disabile, avevamo realizzato un servizio nel quale raccontavamo la sua disavventura, nello specifico di come lo stesso, recatosi con la sua carrozzella in piazza Cavour per prendere una boccata d'aria, si è rimasto intrappolato a causa delle automobili che bloccavano gli accessi riservati agli invalidi. In quell'occasione, una nostra troupe si era recata in piazza e aveva filmato le automobili che occupavano non solo gli scivoli, ma anche gli spazi riservati. Stessa circostanza che è stata da noi immortalata anche questa mattina e proprio in via Roma, luogo della disavventura del signor Lillo Cinquemani. Data la situazione, sembra quasi come se il problema interessasse a pochi. Vogliamo ricordare che questi gesti incivili causano disagi alle persone diversamente abili, un'assenza di sensibilità che andrebbe maggiormente attenzionata dalle autorità, perché ricordiamo a tutti, disabili ci si può nascere, ma ci si può anche diventare.